Siamo col fiato sospeso per vedere quale reazione porterà Israele all'attacco iraniano. Per capire quale possano essere le conseguenze di quell'attacco andiamo, cominciamo il nostro racconto da Joe Biden che si trovava in procinto di imbarcarsi sull'Air Force 1 direzione Carolina del Nord e Carolina del Sud falcidiate dall'uragano che sta devastando un po' il territorio, ha fatto tantissimi morti, eccetera. Cosa ha detto Joe Biden? Un cronista gli ha chiesto se verranno colpite strutture iraniane dedicate al nucleare e Biden ha detto la risposta è no. Tutti siamo d'accordo sul fatto che hanno il diritto di rispondere ma devono farlo in modo proporzionato. Biden è stato molto molto chiaro e vedremo perché la risposta che dà lui è molto importante perché dopo degli israeliani si rifaranno alla prima risposta che diedero gli americani all'attacco. di aprile. Intendiamo bisogna dire che però che ha avuto spesso la capacità di stupire e quella risposta di Biden non deve escludere a priori la possibilità che Israele colpisca strutture nucleari iraniane. Ecco, l'ho detto Bibi proprio la sera dell'attacco, siamo nel mezzo di una dura guerra contro l'asse del male dell'Iran che cerca di distruggerci. Questo non accadrà perché saremo uniti e con l'aiuto di Dio vinceremo insieme. Ecco, qui c'è una retorica gigantesca da parte di Netanyahu perché ha bisogno di quel consenso popolare che a volte gli è stato veramente veramente lontano ma Israele che si è unita attorno al presidente ultimamente proprio nell'attacco al Libano e adesso sicuramente in risposta all'attacco dell'Iran. Lo scopo di Israele oggi è inventare quello che viene definito l'asse del male che loro definiscono l'asse del male iraniano, quindi Hezbollah in Libano, Hamas a Gaza, due fazioni con cui Israele è già in guerra e che sta già distruggendo a mani basse, i gruppi filo-iraniani sciiti in Iraq, gli uti sciiti in Yemen e naturalmente l'Iran stesso. Ricordo che Hamas è l'unica formazione all'interno di questa rosa di proxy, diciamo, gli iraniani è l'unica che è sunnita e non sciita. È una guerra questa che prima o poi scoppierà, è difficile pensare che non si arrivi a una deflagrazione totale della guerra in Medio Oriente. La discussione è molto sul quando, non tanto sul se, ecco, ma sul quando. E oggi una risposta israeliana violenta non è auspicabile anche per un'altra ragione. Gli obiettivi di Israele potrebbero essere quindi, esclusi i siti nucleari iraniani, potrebbero essere quelli destinati, dedicati alle stazioni di petrolio e di gas, mettendo in ginocchio l'economia iraniana. Questo comporterebbe un problema gigantesco di varia natura, anche oltre i confini dell'Iran. Perché l'Iran vende il suo petrolio alla Cina, che manda avanti le sue industrie anche con quel petrolio che acquista molto scontato rispetto al prezzo del Brent, perché l'Iran glielo vende sotto, non sotto sanzioni, ma per effetto delle sanzioni internazionali contro l'Iran, la Cina acquista il petrolio dall'Iran a prezzo molto scontato. Per dare qualche numero, la Cina fornisce circa, scusate, si approvvigiona circa del 10% del suo fabbisogno dall'Iran. Quindi il 10% glielo dà all'Iran, l'altro 20% glielo danno la Russia e il Venezuale, ma questo è un altro discorso che magari affronteremo in altre occasioni. Se Israele scegliesse di colpire infrastrutture che all'Iran consentono di finanziare la sua economia, che le hanno consentito di aumentare moltissimo il suo PIL nel corso degli ultimi anni, di molti punti percentuali, di centinaia, scusate, di decine di migliaia di miliardi di dollari, mi perdo nella definizione di questi numeri. Comunque il PIL dell'Iran è molto molto cresciuto, nonostante tante testate oggi abbiano riportato l'economia dell'Iran è in crisi e in difficoltà. Il PIL dell'Iran è aumentato quasi di un terzo nel corso degli ultimi 5-6 anni, è aumentato tantissimo. Andate a vedere, vi lascio naturalmente la fonte in descrizione, è Infomercati Esteri. Comunque il PIL dell'Iran è aumentato ed è aumentato anche il PIL pro capite iraniano. Naturalmente la vendita, la bilancia commerciale dell'Iran esporta tantissimo e quindi esporta principalmente naturalmente materie prime. se Israele colpisse quei siti che gli consentono di finanziare l'economia, che mettono l'Iran in una condizione favorevole nei confronti dei mercati orientali, cui vende la propria produzione di petrolio e di gas, eccetera, è chiaro che la risposta italiana sarebbe deflagrante, devastante contro Israele. Gli 007 informatici iraniani stanno iniziando a far girare su Telegram la voce che se la risposta di Israele fosse sproporzionata oppure peggio, se colpisse siti nucleari iraniani, ricordiamo che è un'ipotesi il fatto che non colpiranno siti nucleari, potrebbero colpirli. L'Iran colpirebbe i paesi amici di Israele. E quali sono i paesi amici, guarda caso, molti inclusi in quegli accordi di Abramo del 2020 e dove si trovano dislocate decine di migliaia di truppe statunitensi? Quali sono quei paesi amici di Israele, nemici, adesso stiamo ultra semplificando, dell'Iran, dove si trovano le truppe statunitensi? Sono l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait e il Bahrain, tutti siti di estrazione di petrolio che non è difficile intuire quali fabbriche e quale nazione vada ad alimentare quel petrolio lì, là oltre l'oceano, nel Nuovo Mondo. Gli avvertimenti Israele da parte di Teheran sono stati tantissimi, lo abbiamo detto anche ieri. Ah, prima ragazzi di continuare mi fermo un secondo, oggi ho fatto la prima live dedicata agli abbonati. Abbiamo circa ho circa su questo canale 132-133 abbonati, ho fatto una live all'inizio di ottobre. Ogni 100 abbonati che si iscrivono a questo canale, che si abbonano a Matteo Ruboli, faccio una live in più al mese, quindi paradossalmente la sfida sarebbe arrivare a 3000 abbonati al canale, in modo che io sia costretto, no non costretto, naturalmente è un piacere, però io sia, mi impegno a fare una live al giorno per gli abbonati. Ecco, sarebbe veramente bellissimo anche fare un canale su abbonamento, sarebbe splendido, non su abbonamento in genere, nel senso che questa divulgazione giornalistica continuerà sempre, ma fare dei contenuti giornalieri per gli abbonati sarebbe veramente fantastico. Trovate la live qua sotto, nei video, nei tasti, eccetera, trovate tutto quanto, ogni 100 abbonati faccio una live al mese, quindi vediamo se riusciamo ad arrivare entro fine anni, sarebbe bello fare due, tre live al mese, secondo me molto molto, un confronto molto diretto con persone che finanziano questo lavoro, che ormai per me è diventato quotidiano e quotidiano di molte, molte ore al giorno, tanto che per fortuna ci sono le divulgatrici di Vanilla che mi aiutano a continuare a tenere non solo forte la presenza di Vanilla, ma ad aumentare ancora di più i video che faccio lì su Vanilla Magazine. Torniamo agli avvertimenti da parte di Teheran a Israele. Il ministro degli esteri Abbas Araci aveva detto potremmo ridurre Tel Aviv in cenere in una notte. Mohamed Bagheri, che è il capo di Stato Maggiore, l'Iran colpirà tutte le infrastrutture di Israele se ci sarà una risposta ai missili iraniani. Ma da Israele giungono segnali poco incoraggianti nel senso della pace, analizziamoli. Alcuni funzionari israeliani che hanno parlato sotto anonimato hanno detto che la risposta di Aprile era stata troppo scarsa e troppo contenuta, che si sono sbagliate ad ascoltare l'invito della Casa Bianca a condurre un attacco di rappresaglia misurato. Cioè il fatto che Biden dica no, non attacchiamo i siti nucleari, non vuol dire nulla perché gli israeliani pensano di essersi sbagliati ad averlo ascoltato nella precedente occasione di uno scambio di missili con l'Iran. Certo quella risposta contenuta ha evitato lo scoppio della guerra, fra l'altro, ecco io la vedo sempre da pacifista in tutto questo. Cioè gli Stati Uniti in quel caso lì sono riusciti a evitare lo scoppio immediato della guerra perché hanno detto guardate, fate una risposta, ma non esagerate, mi sembra, non ricordo male la memoria mi inganna, ma mi sembra che Israele avesse colpito un sito con un radar iraniano, ecco, quindi non una cosa drammatica, non che andava a distruggere l'economia di un paese. Se Israele destinasse i propri missili, il proprio attacco a quei siti che sostengono l'economia iraniana sarebbe veramente un disastro senza precedenti, ecco. Visto che l'ho citato in un altro video, fra l'altro ricordo l'articolo 11 della nostra Costituzione, che è stato disatteso tante volte dall'Italia, in Serbia, in Libia e anche altrove, a mio parere. L'Italia repudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordonnamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. L'Italia è contro la guerra, lo ricordo perché vedo tanti commenti, un po' di guerrafondai sotto questi video, ormai siamo a centinaia e centinaia di commenti ogni giorno sotto i miei video, vedo qualcuno che si lascia un po' andare nel dire no ma la guerra è giusta, eccetera. La guerra, ragazzi, come italiani facciamo benissimo a ripudiarla e a fuggirla perché non è mai uno strumento di risoluzione delle controversie internazionali e neanche, a mio parere di deterrenza, parere esattamente contrario a quello di Giorgio Meloni, che ha specificato che la pace viene promossa con la deterrenza militare, non con azioni diplomatiche ma con la deterrenza militare. Questo ha detto Giorgio Meloni. Torniamo in Israele, torniamo all'oggi. La folla in festa oggi e fino a domani, fino a domani al tramonto, per il capodanno civile, il Ros Ashana, che durerà appunto fino al tramonto di venerdì, festa ingigantita dallo scampato pericolo dei missili iraniani. Israele è in parte unita attorno a Netanyahu, che ormai è considerato il leader che porterà la pulizia degli affari israeliani in Medio Oriente, quello che vuole liberare il Medio Oriente dalla diavolica, secondo loro naturalmente, presenza iraniana. Ma anche in lutto Israele per la morte, ieri, di otto soldati uccisi, tutti i ragazzi ventenni, uccisi da Hezbollah durante l'attacco israeliano di terra a Hezbollah, in Libano. Ecco, sono in lutto, gli israeliani sono in festa per il capodanno. Insomma, è un paese attraversato da diverse correnti di pensiero che faticano a essere identificate in un unico, naturalmente, in un'unica visione delle cose, ma ci sono tante correnti. Quello che succederà nei prossimi giorni lo scopriremo a strada facendo. Fatemi sapere però voi cosa ne pensate qua sotto, nei commenti, che cosa succederà. Ve l'ho chiesto nei giorni scorsi e stiamo arricchendo sempre di più questi video che faccio, io li faccio anche basandomi su quello che mi scrivete, perché mi portate a ricercare, a fare delle riflessioni, eccetera. Commento anche, mi ha scritto anche l'amico Mario su Instagram, ah se non mi seguite ragazzi Matteo Ruboli su Instagram, scrivetemi lì, fatemi segnalazioni, eccetera, leggo quasi tutto, non rispondo di solito, non per volontà di essere maleducato, ma perché veramente mi manca il tempo, scrivetemi su Instagram, mi trovate Matteo Ruboli. Chiudo però con il commento che mi ha fatto MC, eccetera, al video di ieri. Ciao Matteo, sono uscite le immagini satellitari della base israeliana, colpita sul tetto dai missili, sono degli hangar che sono stati colpiti sul tetto. È la base dove si trovano gli F-35. La notizia era traperata giorni fa, giorni fa mi sembra un po' esagerato, visto che l'attacco è di poco poco tempo fa, ma senza conferme. Adesso possiamo dire sia confermata. Ho cercato le immagini, quindi sono partito da lì, ho cercato le immagini, ho trovato un video esplicito di Times of India, in cui si vedono le esplosioni e la distruzione, parziale distruzione naturalmente, della base di Nevatim in Israele, che è quella dove si trovano i costosissimi caccia F-35 dell'aviazione israeliana. Tengo a specificare che Israele però non ha confermato questa distruzione e potrebbe, ma questo naturalmente potrebbe anche non significare nulla, non è tenuta a specificare che è stato distrutto oppure no. Noi oggi non sappiamo se quella base abbia visto degli F-35 distrutti, io non ne sono sicuro, non ho visto aeroplani esplosi, eccetera, perché dalle immagini satellitari si vedono degli hangar distrutti, degli aerei che sono sopra sembrano intonsi. Io non so dove vengano stivati gli F-35, Mario mi suggerisce che siano protetti sottoterra. Io personalmente non lo so, perché come ho detto tante tante volte, non sono un analista militare, non mi interesso di queste cose, mi piace molto di più ragionare e commentare la geopolitica. Mi piacerebbe tanto anche parlare di pace, prima o poi arriveremo a parlare anche di pace, ma per ora assolutamente non è questo il giorno, per fare una citazione. Sui danni però provocati dall'attacco iraniano continuerò a parlare nel corso dei prossimi giorni, perché penso che sia un tema che in molti mi avete chiesto, voglio approfondirlo il più possibile. Per ora vi lascio il link qua sotto al video di Times of India, si vedono le immagini satellitari, si vede la distruzione, si vedono alcune immagini di missili che colpiscono terra o frammenti di missili. Io questo ancora ribadisco, non lo so, finché non mi danno conferme ufficiali non vi do una versione della cosa, ma la base di Nevatim dalle immagini satellitari sembra essere stata pesantemente colpita. Questo oggi lo possiamo dire con certezza. Link alla fonte in descrizione. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se volete seguire la live mensile per ora agli abbonati, abbonatevi. Se volete farmi fare altre live mensile, mi raccomando, i tasti abbonati sono qua sotto. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutto quello che abbiamo detto oggi nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.